Ma sull'agro e a prescindere la situazione complessa, perché sapete bene dal punto di vista storico, culturale, quali sono le problematiche dell'agro, è evidente che sicuramente qui come impegno da parte nostra c'è un impegno molto evidente. Abbiamo una forza commisurata a quello che richiede il territorio, proprio perché siamo consapevoli di come cittadine come Nocera, Pagani, Scafati, Angri, abbiano bisogno di una presenza sul territorio molto più incisiva e che porti anche a dei risultati operativi che siano in grado di fronteggiare adeguatamente i fenomeni criminali. La violenza utilizzata nella rapina, molta violenza diciamo, denota anche uno scadimento di questi gruppi. Ma io credo che già di per sé la rapina stessa come evento delittuoso abbia insita la violenza. Ora dalle immagini si vede di come poi il rapinatore si accanisca nei confronti del dipendente del supermercato. Ed è proprio questo per noi il fatto di contrastare fenomeni come lo spaccio, che possono avere collegati altri fenomeni delinquenziali anche più violenti, più gravi. Non più gravi, sono tutti molto gravi in ogni caso che hanno insita una maggiore violenza. Ci consente quindi di perseguire soggetti che di per sé sono dei soggetti di una certa pericolosità.